buongiorno a tutti carissimi amici e ben ritrovati qui a grossi luca per il tg agende rosse milano un articolo del fatto quotidiano che sicuramente avrete già sentito nominare dai tg nazionali giovanni falcone il dna di una donna sui reperti della strage di capaci era parte del commando le tracce genetiche sono state trovate nei reperti 4a e 4b si tratta di due guanti in lattice che vennero trovate a 63 metri dal cratere provocato dall'esplosione assieme a una torcia e a un tubetto di mastice all'epoca della strage era impossibile rilevare le impronte digitali dai guanti in lattice abbiamo in programma un fitto calendario di cose da fare ha dichiarato il procuratore di calta nissetta amedeo bertone una donna del commando di morte che preparò la strage di capaci l'ultima verità sull'attentatuni che uccise il giudice giovanni falcone la moglie francesca morvillo e tre agenti di scorta arriva a 25 anni dal 23 maggio 1992 su alcuni reperti recuperati dalla polizia scientifica nei pressi del luogo dove avvenne la strage sono state trovate tracce genetiche riconducibili a una persona di sesso femminile l'indiscrezione circolava da tempo tra uffici inquirenti e già nei mesi scorsi il fatto quotidiano aveva ricostruito l'ipotetica presenza di una donna sullo sfondo delle stragi del 92 e del 93 i magistrati della procura di calta nissetta che conducono le indagini sulla strage li hanno affidati a uno dei maggiori esperti del settore il professor nicola resta docente di genetica medica dell'università di bari che è giunto a queste conclusioni dai guanti lattici il perito ha estrapolato i codici genetici di almeno altri tre individui dove però la componente femminile attribuibile a uno o più soggetti di sesso femminile risulta essere maggiormente rappresentata la consulenza è adesso agli atti del processo bis per la strage di capaci quello nato dalle dichiarazioni di gaspare spatuzza il procuratore di calta nissetta medeo bertone che conduce le indagini con gli aggiunti l'iva saba gabriele paci e con il pm stefano luciani ha disposto ulteriori accertamenti abbiamo in programma un fitto calendario di cosa da fare ha dichiarato al quotidiano tra l'altro su antimafia 2000 c'è un commento di saverio lodato chi glielo andrà a raccontare i cagadubbi che si annuncia un altro fitto calendario investigativo speravano sempre dei cagadubbi stiamo parlando che queste benedette stragi finissero in prescrizione qualche giorno fa la procura di firenza è tornata a iscrivere per la terza volta nel registro degli indagati per le stragi del 93 i nomi di silvio berlusconi e marcello dell'utri e loro i cagadubbi avevano strepitato sulla giustizia a orloggeria visto che si era alla vigilia del voto siciliano voto che come abbiamo visto era tutto furché che pulito candido e onesto in un certo senso li comprendiamo si muovono tante cose sin troppe nel ribollente calderone investigativo delle procure di palermo caltanissetta e firenze e i cagadubbi forse hanno anche un po di paura personalmente spero che ce l'abbiano e noi che siamo uomini di mondo capiamo anche questo grazie a saverio lodato per questo articolo meraviglioso gli accertamenti scientifici hanno già escluso che quei due profili genetici appartengano a giovanni aiello cioè faccia da mostro l'ex poliziotto sospettato di essere un killer al servizio di cosa nostra morto ad agosto escluso che le tracce di dna appartengano anche a una sua amica tale virginia entrambi sono stati indagati nei mesi scorsi dalla procura di catania per alcuni omicidi ma il fascicolo è stato archiviato il collaboratore di giustizia calabrese nino lo giudice per la verità aveva fatto un cenno a una donna che agiva sempre con aiello una tale antonella ha detto il pentito tutti e due facevano parte a servizi deviati dello stato e la donna era stata dal ghero in una base militare dove la fecero addestrare per commettere attentati e omicidi beh che dire signori stiamo parlando quindi di una donna che non appartiene a cosa nostra io vorrei sapere domanda diciamo collettiva quante cose non appartengono a cosa nostra in queste stragi fin quanto centra cosa nostra e fin dove inizia a centrare lo stato una bella domanda da porsi ma sono sicuro che sarebbe più interessante la risposta grazie a tutti per l'ascolto io vi auguro una buona notte grazie a tutti